La giornata nazionale della legalità, in cui si celebra il rispetto e la bellezza della legge che è garanzia di diritti per tutti, di uguaglianza e di tutela per i deboli, viene celebrata il 23 maggio di ogni anno. E' la data in cui si verificò nel 1992 la strage di Capaci. Ricordare questi eventi ci aiuta a capire, ad avere consapevolezza, ci aiuta soprattutto ad alimentare lo sdegno che dobbiamo rivolgere ad ogni attività illecita. Gli attentatori, gli uomini di Cosa Nostra, fecero esplodere un tratto dell'autostrada a 29, poco prima delle 18, mentre vi transitavano le tre Fiat Croma, blindate, della scorta, con a bordo il giudice Giovanni Falcone e la moglie, che facevano ritorno da Roma, atterrando all'aeroporto di Punta Raisi. Morirono cinque persone, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, che erano nella seconda automobile, la Croma Bianca, e i tre agenti della scorta, che erano nella prima Fiat Croma, quella marrone, che fu investita in pieno e fu sbalzata decine di metri di distanza dall'autostrada. Si salvarono i tre agenti della terza Fiat Croma, quella azzurra, e l'autista della macchina bianca di Falcone, che per desiderio dello stesso giudice si era seduto di dietro, volendo guidare lui in quel tratto di strada. Vi furono venti feriti, tra coloro che percorrevano l'autostrada. A giungere sul luogo furono gli abitanti delle zone limitrofe, che prestarono i primi soccorsi. Venne subito estratto dall'auto Giuseppe Costanza, l'autista della Croma Bianca che si trovava sul sedile posteriore, vivo, in stato di incoscienza. Anche il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo erano ancora vivi e coscienti, ma versavano in gravi condizioni. Si riuscì a tirare fuori la moglie del giudice dal finestrino. Per liberare Falcone dalle lamiere accartocciate, fu invece necessario attendere l'arrivo dei vigili del fuoco. Il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo morirono in ospedale, nella serata dello stesso giorno, per le gravi emorragie interne riportate. Ecco gli uomini della scorta che persero la vita. Antonio Montinaro, poliziotto di trent'anni, capo della scorta. Vito Schifani, poliziotto di ventisette anni, Rocco Di Cillo, poliziotto di trent'anni. L'attendato fu chiamato l'attentatuni perché non voleva soltanto uccidere il giudice Falcone e chiunque altri gli fosse accanto, ma perché mirò a dare prova della forza devastatrice della violenza di cui era capace la mafia. Il giudice aveva davvero lavorato bene, aveva organizzato e dipanato diverse matasse nel maxiprocesso, che si tenne tra il 1986 e il 1987, infliggendo 360 condanne a uomini della mafia, e continuava a svolgere la sua missione di uomo dello Stato, dirigendo la sezione Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia a Roma. Al funerale l'opinione pubblica fu scossa anche dalle parole rotte dal pianto della vedova di uno degli agenti della scorta, Rosaria Costa, di ventidue anni, vedova dell'agente più giovane ucciso, Vito Schifani, che aveva lasciato un figlio letto di soli quattro mesi. Leggerò le sue parole pronunciate in chiesa, nel momento in cui tutto il mondo si coprì di sdegno per quello che era capace di fare la mafia. Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, Vito mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia ad esso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e nonno, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, però se avete il coraggio di cambiare, di cambiare, ma loro non cambiano, loro non vogliono cambiare, loro non cambiano. Di cambiare radicalmente, di cambiare i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo, nel nome del Signore, che ha detto sulla croce, Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo, per la nostra città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è amore per niente. Oggi il piccolo Emanuele Schifani è diventato un uomo che indossa con grande coraggio e orgoglio una divisa dello Stato. Lo vediamo qui assieme alla madre Rosaria Costa, divenuta oggi un'icona della lotta contro la mafia, non solo per le parole pronunciate nel giorno del funerale del marito e delle altre vittime della strage, ma per essere testimone di lavoro onesto e intrepido nella costruzione di una famiglia che ha saputo difendere la propria libertà e la grandezza della normalità contro la vitità di Cosa Nostra, che è riuscita ad accaparrarsi anche un suo familiare, il fratello arrestato per delitti di mafia. La mafia ha continuato ad uccidere giudici e poliziotti. L'amico e collega del giudice Falcone, Paolo Borsellino, fu ucciso dopo 57 giorni, il 19 luglio 1992, assieme ad altri cinque agenti della scorta. Nel 1993 la direzione investigativa antimafia riuscì ad individuare e a intercettare i colpevoli degli attentati Antonino Gioè, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera, i quali nelle loro telefonate facevano riferimento all'attentato di Capaci. Dopo essere stato arrestato, Gioè si suicidò nella sua cella. Invece Di Matteo e La Barbera decisero di collaborare con la giustizia e rivelarono per primi i nomi di tanti altri esecutori della strage. Ciò permise l'arresto anche del capo dei capi, Totò Riina. Per costringere Santino Di Matteo a ritrattare le sue dichiarazioni, uomini della mafia decisero di rapire il figlio Letto Giuseppe, che venne brutalmente strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia. I mafiosi uccidono anche i bambini. Questa è la mafia, che non ha alcun rispetto per la vita altrui, neanche per la vita dei suoi stessi affiliati. Questa è la mafia che vuole essere lasciata in pace nei suoi loschi traffici, che da tempo non si limitano più alla sola Sicilia, ma hanno diramazioni in tutta Italia, in tutta Europa e perfino in paesi extraeuropei. Lo spaccio di stupefacenti, perché non c'è un grammo di droga che possa essere venduto senza il beneplacito della mafia. La gestione di appalti pubblici attraverso la corruzione di uomini di potere. I prestiti usurai, concessi a tassi superiori al 100%, a chi non può permettersi i prestiti delle banche che richiedono garanzie. Il riciclo del denaro sporco attraverso attività di copertura, che comprendono attività industriali o commerciali, legittime, legali, dai supermercati alla produzione di manufatti all'alta finanza. Tutto questo sono le attività della finanza occulta delle mafie. Adesso buon lavoro ragazzi, guardate gli altri video suggeriti e rispondete alle domande.